Per te un disco scritto per la maggior parte con altre persone si può definire un disco personale? Scritto con altri autori? Non è una critica a te, stanno parlando di musica E quando hai parlato di me l'hai fatto rappando però Ok, dove vuoi arrivare? No, chiedendo, quindi non sei un rapper ma rappi? Sì Ok, molto strano, non pensi? Per me dopo questa chiacchiera ci staremo più simpatici Vedi, è così che fa la scena rap, vedi, che dice Ma quando inviterò qualcuno che mi sta sul cazzo a San Siro non potremmo dire Allora Andiamo avanti L'hai presa bene, dai Non sei più tornato a scrivere No, ma è qualche mese fa Un mese che non scrivi però Eh vabbè, sì Io invece scrivo sempre Vabbè, bravo tu che scrivi sempre Che ti devo dire